Katy Perry, il segreto dei suoi look da concerto e il latex Katy Perry è unesplosione di energia e sensualità negli abiti che ha scelto, con cura meticolosa, per il suo fitness tour. Il percorso glamour dell'esibizione è unesplorazione di stili, fantasia e arte che si intersecano grazie al filo rosso che li unisce tutti, il latex. Katy Perry, impossibile resisterli. Katy Perry si rimette in forma per affrontare il fitness tour sempre al top. A rendere ancora più incredibile il suo concerto ci pensano i suoi look fuori da questa galassia, la sua grinta scoppiettante e una pletora di beauty look che hanno lasciato senza parole tutti. Come sempre, Katy Perry punta all'effetto VOV. Senza rinunciare ai grandi classici di stagione. Quest'autunno sta facendo il suo grande ritorno il latex e l'aderenza degli abitini in pelle, e Katy ne ha fatto un saggio uso per mettere in luce le sue canzoni più celebri. . Che abbia rubato qualche idea a Nicki Minaj, la regina dei tessuti sintetici. Di certo, il loro singolo Swish Swish non è stato solo un punto d'incontro fatto di musica. . Katy Perry, il segreto per il suo make-up da diva. Il make-up artist di Katy Perry si chiama Todd Delano e non ha paura di niente, specialmente quando si tratta di osare con curve pericolose, di eyeliner, e sensualità, di colori. . Se Delano è un professionista che ama sperimentare, con Katy Perry ha trovato pane per i suoi denti e una sfida continua. . Prima di partire in tour, i due si sono seduti ad un tavolo e hanno cominciato a studiare, cercando le migliori ispirazioni di tutti i tempi per dare vita a una serie di look da perdere la testa. . Katy Perry è molto collaborativa e ama divertirsi con il make-up, spiega Delano, che nella pop star deve aver trovato la gallina dalle uova d'oro, non vede l'ora di mettersi in gioco, lavoriamo insieme per creare i suoi beauty look straordinari. . Ci ispiriamo alla vecchia Hollywood, ai trend della Fashion Week, a Tumblr, alla moda anni 90, e alla cultura pop. Non c'è mai una sola fonte. . I capelli di Katy Perry cambiano, ma i suoi beauty look non scendono a compromessi con il colore, da quando si è fatta bionda, devo schiarirle un po' le sopracciglia. Per il resto, la sua scelta di colori non è mai cambiata. . Delano è l'autore che ha reso il make-up di Katy così iconico da risultare perfettamente riconoscibile in qualsiasi occasione, dobbiamo a lui i suoi katei e vertiginosi, la pelle chiara e luminosa e il make-up occhi glitterato e pieno di colore a cui non riesce proprio a dire di no. . Volevamo essere sicuri che i suoi beauty look si adattassero a tutte le parrucche e i costumi bizzarri che indosserà in concerto, ecco perché il trucco doveva essere un complemento di grande effetto. .